Musica Nuova fase professionale per il dottor Vincenzo Bosco, specialista in chirurgia e direttore sanitario della clinica Villarizzo. Come mai ha deciso di intraprendere questa nuova avventura? Intanto, come dire, le avventure non mi hanno mai atterrito, diciamo. Questa è una nuova fase della mia vita professionale che ho voluto aprire facendo una scommessa un pochino con il mio passato e guardando un poco al futuro. Sono arrivato il primo di aprile, questa è una data che mi ricordo di quest'anno, presso questa casa di cura, che in un certo senso era riduce da una serie di problematiche e in qualche modo aveva anche bisogno di essere, per così dire, risistemata un po' dalle fondamenta, perché un lungo periodo, forse di gestione un poco così caotica, l'aveva un po' lasciata priva di quelle cose che oggi sono estremamente utili e necessarie in una struttura che si dedica ai pazienti, soprattutto se è una struttura privata, dove il paziente si rivolge per scelta, non per necessità, e che ha dunque il dovere di dare delle risposte. Abbiamo fatto un percorso, non dico agevole, anzi a tratti infido e faticoso, oggi dopo aver avuto controlli, ripetuti controlli, devo dire, sulla attività della casa di cura e anche in termini di rischio clinico per i pazienti, cosa importantissima, ci stiamo avviando anche con la buona volontà, devo dire, con il coraggio del proprietario, del dottore Rizzo, in un periodo in cui intenderemmo dare delle prestazioni migliori all'utenza, inserendoci in maniera, vorrei dire, significativa nella gestione complessiva della salute in provincia di Siracusa. Il nostro proprietario della casa di cura, ho visto che ha molto coraggio, basta vedere come ha affrontato il problema di ristrutturazione delle sale operatorie e come si è, come dire, buttato con convinzione in questa impresa di rifare di nuovo la struttura, perché in realtà la struttura viene rifatta un poco dalle fondamenta e chi viene lo vedrà perché nelle strutture è investita una parte notevole di risorse, ma anche nello strumentario e anche negli uomini, per cui tutto questo si affronta se si è convinti di poter avere poi un risultato. Una lunga carriera di medico-chirurgo al servizio dei pazienti e ora all'esperienza a Villarizzo con attrezzatura all'avanguardia. Ma cosa fa un medico del suo calibro e della sua esperienza a Villarizzo? Io in questo momento sono responsabile del Dipartimento di Chirurgia e di conseguenza ho assunto anche l'attività di direttore sanitario facente funzione, cosa che la legge ci dà possibilità di fare. Evidentemente la mia vecchia malattia, antica malattia, che è quella di fare il chirurgo, non l'ho persa, nel senso che anche se il mio tempo si dedica in buona parte ad un'attività organizzativa di controllo, quando c'è la possibilità io non disdegno di andare in sala operatoria, possibilmente andarci con qualche giovane che oltre ad aiutarmi spero di potergli trasferire un pochino della mia pluriannale esperienza. Questo è un minimo di soddisfazione che mi voglio togliere. Una vita dedicata alla sanità pubblica, una lunga carriera professionale, riconosciuta di recente dall'ASP che le ha conferito il titolo di primario emerito. Una bella soddisfazione. Io sono andato in pensione dopo 40 anni di lavoro fatto sempre nello stesso ospedale. Posso dire di avere trascorsa più della metà della mia vita e tutta la mia vita professionale in questo ospedale. sono andato in pensione all'età di 65 anni perché avevo maturato sia il requisito dell'età che anche il requisito degli anni di anzianità realmente lavorati e nessuno mi ha detto grazie. Questa iniziativa di cui devo dare atto sia al dottore Brugaletta, attuale direttore generale dell'ASP che è al direttore sanitario Anselmo Madeddu, nonché mio presidente dell'ordine, ha riempito di soddisfazione tante persone, non solo me, siamo stati una diecina quelli che siamo stati riconosciuti, primari emeriti. C'è gente che ha lavorato e ha cercato di dare lustro all'attività scientifica e di sollievo della sofferenza nel nostro ospedale. Sono tante le figure professionali che orbitano attorno a Villarizzo. Nella qualità di direttore sanitario ci dica, da cosa scaturiscono queste scelte? Beh, scaturiscono da due cose secondo me. Si tratta di scelte. Il professionista ha visto nella casa di cura delle possibilità nuove per lui, probabilmente. Ha visto delle strutture che si erano completamente rinnovate, ha visto delle sale operatorie che davano molto più garanzia delle precedenti, perché basta vedere tutta l'impiantistica, come sono sistemate le sale stesse, lo strumentario che c'è dentro. Il professionista che è venuto, e ne sono venuti tanti, devo dire, e lo dico perché li ho accompagnati in questa visita, sono andati via tutti molto soddisfatti di quello che vedevano. Perché, per gente che girava un pochino tutto, perché sono venuti anche dal nord d'Italia a vedere, alcuni si sono soffermati e poi sono tornati a lavorare, voglio dire che già questo è un elemento che fa aprire un po' alla possibilità di lavorare in quella struttura. Perché stiamo avendo tutta questa gente che viene? Beh, questo io credo che lo debbano dire prima di tutto i pazienti, poi i professionisti stessi che vengono, gli specialisti. Noi contiamo di incrementare anche l'attività della clinica. Se, come io penso, il dottore Rizzo investirà ulteriormente, come credo che qualcuno abbia già detto, faremo qualche cosa per quanto riguarda l'endoscopia digestiva, che è un trampolino di lancio per un'attività più qualificata, anche di tipo chirurgico, nell'ambito del tubo digerente. Se ci sarà una risonanza magnetica, credo che se ne potranno avvalere tutti quanti, perché è uno strumento di cui c'è carenza sul territorio. E se attueremo altri tipi di ambulatori, tipo per esempio l'ambulatorio per la menopausa, un ambulatorio per lo screening delle malattie della donna nel periodo post-menopausale. Diciamo che di carne al fuoco ce ne avremmo tanta. Lei possiamo dire che ha già avuto tutto dal punto di vista professionale. Una bella carriera costellata da successi. Cosa vuole fare adesso? C'è qualcosa in cantiere o un obiettivo che vuole ancora raggiungere? Beh, da grande è quello che sto facendo sostanzialmente, perché è uscito dall'ospedale, è uscito dal vincolo orario e dalle responsabilità che per un primario ospedaliero di chirurgia non sono da poco. Io ho avuto la fortuna, il Signore mi ha dato questa possibilità, di vedere cinque nipoti, uno dei quali porta il mio stesso nome, di avere ancora una testa che mi ragiona discretamente, di avere le mani che non mi tremano e di conseguenza in questo momento non mi do degli end point, nel senso che cammino fin quando riesco a camminare, ovviamente senza fare correre rischi a nessuno e facendo quello che via via riesco a fare. Ci sarà un momento, chiaramente, come per tutti, che bisognerà staccare la spina, ma penso che lo farò con la serenità di chi ha passato gran parte del suo tempo a fare cose utili.